Mister Lorenzo Collacchioni ai nostri microfoni al termine di questo 1-1 insomma un punto che smuove la classifica per il suo Livorno che era in un momento abbastanza critico Un momento abbastanza critico, venivamo da una sconfitta, da una settimana particolare veniamo via con qualcosa da Arezzo, perciò bisogna ripartire da qua oggi abbiamo fatto comunque una prestazione di sacrificio, di attenzione contro una squadra di cui parlano tutti e noi dobbiamo step by step cercare sicuramente di migliorare però ripeto, veniamo via con qualcosa e ripartiamo da qua Dopo l'espulsione e il calcio di ricore, ha sperato ovviamente di uscire dal comunale con tre punti? Logicamente abbiamo fatto la partita con quell'obiettivo là infatti i ragazzi erano un pochino giù perché ci tenevano a vincere la partita perché ci si era messa obiettivamente in una direzione giusta per noi sicuramente vanno i meriti anche alla squadra avversaria perché il gol secondo me l'abbiamo preso in maniera evitabile ma potevano comunque fare gol in altra maniera non perché ci hanno surclassato di occasioni però hanno fatto la loro partita come noi abbiamo fatto la nostra sapendo che con un pochino più di fortuna più sicuramente lucidità potevamo cercare di fare anche il secondo gol e venire via col bottino pieno così non è stato però ripartiamo da qua La scelta di giocare 3-5-2 come è nata dal punto di vista tattico per affrontare l'Arezzo? È nata per il momento, per tante situazioni ma ci avevamo già giocato poi 3-5-2 può essere con un riferimento basso o un riferimento un pochino più alto però noi abbiamo lavorato a ritiro in quella direzione lì se vuoi parlare di numeri 3-5-2 dipende come giri, come ruote il centro campo poi abbiamo anche cambiato per esigenze di infortuni di quote, c'è tante valutazioni da fare io una rosa molto ampia e oggi l'abbiamo affrontata e studiata in questa direzione perciò ho tante pedine in squadra che mi possono permettere anche di cambiare modulo di cambiare anche strategia durante la partita adesso abbiamo detto oggi abbiamo tirato fuori qualcosa secondo me potevamo sicuramente cercare di fargli male anche con questo modulo dall'inizio alla fine l'abbiamo tenuto così non è stato però veniamo via con qualcosa Riccardo, un'ultima cosa adesso che è finita questa settimana che cosa si porta via, si porta dietro da un punto di vista umano glielo chiedo più che tecnico e da allenatore dal punto di vista umano porto via un grande insegnamento da parte dei miei ragazzi perché la circostanza fortunata che sia stato io il privilegiato è solo un caso loro hanno fatto un qualcosa e fare qualcosa non è mai scontato perché si può non fare niente perciò io sono insieme a loro più carico di prima non perché prima non lo fossi sicuramente è stata una settimana per me di esperienza particolare ma per tutti sono contento di esserne uno dei protagonisti di una cosa sicuramente piacevole che è successa noi però senza step by step bisogna ragionare partita per partita perché funziona così cercando di tirarci fuori il massimo